Sesta tappa della Tirreno Adriatico lunedì 18 marzo con la corsa dei due mari che nella penultima giornata ha previsto la frazione, la quinta in linea, da Matelica a Iesi per 195 km totali. A vincere è stato Julien Alaphilippe con il francese che si è imposto a sorpresa in volata su Davide Cimolai e Elia Viviani. Una bella novità per la 54esima edizione di una gara seconda per importanza solo al Giro d'Italia, la partenza dal centro di Matelica che ha riservato una tappa speciale alle terre del Verdicchio. La sfilata dei corridori nella centralissima piazza Mattei è stata un bagno di folla con tanti appassionati, le scuole, le associazioni ad accogliere i campioni delle due ruote. Sulla linea di partenza il sindaco Alessandro Delpriori e l'assessora allo sport e al turismo Cinzia Pennisi. Sindaco abbassare la bandierina vuol dire dare il via ad una tappa significativa per questo territorio fortemente voluta anche dalla sua amministrazione. La Tirreno Adriatico è lo sport ma lo sappiamo è soprattutto promozione turistica. Ma assolutamente sì, quest'anno poi era una tappa particolare, Wine Stage sul Verdicchio, quindi abbiamo unito Matelica e Iesi proprio per far vedere che il nostro è un territorio unito, un territorio unico con grandi specificità e grandi qualità. Il Verdicchio prima di tutto ma anche le colline e il paesaggio e chiaramente lo sport e la bicicletta in particolar modo è il modo più bello per viverlo. Allora questo sarà sicuramente un evento di sport ma anche una grande pubblicità per il nostro territorio. Si era detto come questi territori, quelli per esempio colpiti dal sisma nel 2016, avessero bisogno anche di questo tipo di visibilità per comunicare quanto ancora resta, quanto è stato fatto ma soprattutto che queste sono zone pronte a ripartire anche dal punto di vista turistico. Dobbiamo ripartire, il turismo chiaramente è uno dei cluster più importanti nella nostra economia e oggi vedere la piazza piena di gente come non succedeva da tanto tempo, probabilmente appunto dal 2016 per noi è anche stata un'emozione. Mi chiedevano ma come mai non siamo andati in comune, è perché è inagibile, le chiese chiuse, le persone che non abitano più in questi posti, però che vogliono stare qua per ripartire tutti insieme. Quindi la partenza di Reno Adriatico è anche la ripartenza del nostro territorio. Assessore, anche lei è protagonista di questa giornata di sport che è soprattutto un'occasione per rendere Matelica importante. Sì, siamo molto felici perché in questa piazza oggi sicuramente non ci sono solo appassionati di ciclismo, ma è proprio la partecipazione a un evento importante per il territorio, importante per quello che rappresenta la tappa del Verdicchio. Io anche come assessore al turismo ne sono veramente soddisfatta. Ecco, magari potrebbero arrivare anche dei turisti in virtù di questa visibilità. Sicuramente già sono arrivate, abbiamo dei numeri molto belli, ma soprattutto è anche molto bello quello che sta nascendo con la tappa, cioè Matelica Iesi, la tappa del Verdicchio, quindi anche una proposta di territorio importante nel nome di quello che noi riteniamo un'eccellenza assolutamente. I produttori del Verdicchio di Matelica si sono presentati al meglio con stand per valorizzare le tante qualità della DOC. Un'idea nata per legare sport e territorio e promuovere le marche come terra di grandi vini, proposta dalla regione sposata dai comuni coinvolti e da IMT, istituto marchigiano di tutela vini. È vero, sì, guarda, i territori devono essere scoperti. Grazie a queste corse, a queste attività, sicuramente le persone scoprono i nostri territori dove si produce questo grande vino. E poi con questo punto di accoglienza si può comunque intercettare un pubblico anche diverso. Vero, noi abbiamo creato questo punto, come dicevi te, che può essere un punto di assaggio. E poi per capire chi vuole spiegazioni, chi vuole qualsiasi cosa, possiamo intervenire e dire cosa siamo, dove siamo e quello che produciamo. Marcello Crescentini è presidente del gruppo ciclistico Matelica. Certo che vedere la partenza di una tappa della Tirreno Adriatico, immagino sia per chi ama questo sport, è un'eccellenza, una cosa che non capita tutti i giorni. Per noi è veramente un sogno, un sogno che era svanito due anni fa quando doveva in programma l'arrivo sulle pendici del San Vicino. Dobbiamo solo ringraziare l'amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto e è riuscita a portare una partenza della Tirreno Adriatico. Speriamo in futuro che riescono a fare un arrivo, perché questo sarebbe un ulteriore sogno che si aggiunge a tutto quello che è stato realizzato fino adesso. Perché riguarda la sesta tappa, la tappa del Verdicchio, è per noi un motivo di orgoglio, perché in un certo senso siamo stati nove anni fa dei precursori, dei precursori sempre in modo molto più modesto, ma sicuramente noi sono nove anni che facciamo una Gran Fondo di mountain bike che è chiamata la Gran Fondo del Verdicchio di Materica. Ne siamo orgogliosi, è una manifestazione che sta crescendo, l'anno scorso ha visto la partenza di quasi 600 atleti, ma in tutte le edizioni e sin dal suo concepimento la nostra manifestazione è stata pensata per valorizzare il prodotto principale dell'economia matericese e del suo territorio. Sicuramente su questo noi ci puntiamo molto, è proprio il motivo per cui è nata questa manifestazione. Quest'anno si terrà il 23 giugno la manifestazione, è inserita in due circuiti, il Bike Tour Coppa Marche e il Six Italia Race, che è un circuito extra regionale e questo ci permette di portare atleti da fuori regione. Ne siamo orgogliosi, stiamo lavorando molto per far crescere questa manifestazione, ma non è sicuramente l'unica attività del gruppo ciclistico Materica. Il gruppo ciclistico Materica già da sette anni organizza una manifestazione per bambini, la Baby Garden Bike che si tiene tutti gli anni il 2 giugno a Materica nei giardini pubblici. Si presentano circa 200 bambini con tutte le famiglie, i nonni, a seguito, una bellissima manifestazione. Un'altra bella manifestazione che facciamo ai sanatoi, a un paese di Mitrofo, è la San Cataldo Dei, una cicloturistica anche quella più di 200 partecipanti, ma il vero fiore all'occhiello nostro è il settore giovanile, un settore giovanile che sta crescendo, ci stiamo impegnando molto, l'amministrazione comunale ha recepito una nostra richiesta e ci sta allestendo una pista permanente di addestramento mountain bike, che è una disciplina su cui il gruppo ciclistico punta molto. Non possiamo altro che ringraziare tutti e sicuramente oggi è una giornata, oltre che di festa, anche la realizzazione di un sogno. La Verdicchio Wine Stage, sesta tappa della Tirreno Adriatico, partita dal cuore del centro storico di Matelica, ha poi attraversato gli splendidi paesaggi tra i vigneti del territorio comunale, toccando nel proseguo le località di Castelraimondo, San Severino Marche e Cingoli, Apiro, Mogli e Morro d'Alba, per raggiungere Iesi attraverso la zona dei castelli. Grazie. 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 Grazie a tutti.